Tutto è cominciato nel 1983 con la nascita del primo superstudio, il Superstudio 13, 13 studi fotografici in via Forcella 13. Ecco la cittadella dell'immagine creata per seguire la crescita del pret-a-porter italiano e della nuova editoria di moda. L'abbiamo creato noi, mio marito Flavio Lucchini e Dio, allora creatori e direttori delle più importanti testate di moda. Abbiamo chiamato il fotografo Fabrizio Ferri, nostro collaboratore, a unirsi a noi nei primi anni. Superstudio 13 è stato il primo insediamento che ha iniziato la trasformazione del quartiere alle spalle di Porta Genova e che si è trasformato da ex-industriale a post-industriale. Poi sono arrivate le prime case di moda proprio accanto a noi, Esprim, Kenzo, Zegni, Armani e tutte le altre. Nel 2000 inizia la nuova fase. Anche il secondo tratto di via Tortone e via Savona, dove c'erano le grandi fabbriche, la General Electric, la Nestlé, l'Ansaldo, la Riva Calzoni, anziché restare cattedrale nel deserto, possono accrescere il potenziale della zona. Sempre noi trasformiamo un pezzo di General Electric in Superstudio Plus, il nostro grande centro per la creatività e la comunicazione avanzata. Accanto nasce Now, il primo art hotel della zona e si insiede Armani nella ex Nestlé con il suo teatro, le sue sfilate e ora il suo museo. Il resto va veloce, in pochi anni tutta la moda che conta arriva qui, i grandi brand, le sfilate, le fiere, con White in testa. Ma arriva anche il design, che parte proprio da Superstudio Plus e in pochi anni creerà il fenomeno del fuori salone, diffuso nel quartiere, generando i primodisti della città con la sua Tortona Design Week. Siamo sul roof di Superstudio Plus, in questo meraviglioso terzo paradiso di Michelangelo Pistoletto. Siamo nel luogo dove nel 2000 tutto è iniziato. Quando abbiamo aperto il più grande e più importante, polo privato della città per mostre e eventi culturali, che ha dato in là la Design Week diffusa nel quartiere. Siamo partiti 15 anni fa con Design Connection, offrendo lo spazio alla migliore produzione del design internazionale. Il progetto poi è cambiato col tempo e si è trasformato in un temporary museum for new design, dove le novità del design erano presentate attraverso grandi installazioni emozionali, grandi brand, momenti molto importanti, con un concept meno fiere, più museo. In 15 anni tutto è cambiato. È arrivato il momento di Superdesign, un nuovo format che accoglie il design democratico, il design dei nuovi makers, il design delle piccole produzioni, il design che si promuove su internet, il design che apre a tutte le forze creative del mondo. Superdesign, che lascia spazio sempre ai grandi creativi, ma anche a tutte le nuove promesse del design, apre come sempre con alcune grandi installazioni emozionali, create dai grandi brand internazionali come la Hyundai, come LG AUSIS con una grande installazione emozionale di Marcel Vanders, come le giapponesi Aisin o Asaki Glass, che hanno altre installazioni dove i prodotti sono presentati attraverso le emozioni. Accanto a questo ci sono delle nuove produzioni italiane di grande interesse perché è stato forte il momento della ricerca. Abbiamo Former, abbiamo Gio Pagani, abbiamo Pietro Travaglini, tre nomi giovani, forti, molto interessanti. Ci sono ovviamente altre cose interessanti. Abbiamo una grande interesse, una grande attenzione alla Cina che è presente con più installazioni che ricordano questa nuova creatività cinese. Ci sono gli Emirati Arabi, che è un'interessantissima mostra di art design, ci sono delle produzioni internazionali. Accanto a questo ci sono i progetti collettivi pensati da noi, i selected objects, piccoli oggetti scelti per il loro contenuto innovativo. C'è un'area del tutto nuova che è dedicata ai bambini, il kids, perché il buon gusto nasce anche da piccoli, e la nuovissima area Super Textile perché anche il Tessile sta conoscendo un grandissimo e nuovo interesse. Il nuovo progetto Super Design necessitava di un segno forte che indicasse la svolta. Abbiamo cambiato Art Director, ci segue ora Carolina Di Silvio-Voccia, un giovane architetto italiano pluripremiato all'estero che ci accompagnerà in questo percorso verso le novità e verso questo design democratico che ha veramente cambiato il panorama. Abbiamo lavorato veramente a tante cose in questi mesi, tante cose diverse. Tra le tante, la prima forse immediatamente sotto gli occhi di tutti è il nuovo logo Super Design disegnato da Flavio Lucchini, ma poi da noi colorato, con questa sfumatura che va dal rosso al blu e che è un po' diventa anche il filo conduttore poi all'interno dell'immagine coordinata degli spazi comuni, tanto che accompagnati da Abet e da De Rosso, due fantastici partner in questa cosa, hanno realizzato apposta per noi sul disegno alcuni elementi su questo sfumato rosso e blu che ritroveremo poi, ritroverete poi ad accogliervi all'interno del Super Design. Il lavoro di questi mesi nel suo complesso, anche con la creazione delle nuove sezioni come il kit design, l'art design, il super textile, è stato quello di rinforzare sempre più Super Studio come un luogo in cui le idee che fino a un minuto prima erano semplicemente nell'aria, qui convergono e diventano e si trasformano in un qualcosa di concreto da venire a vedere. Grazie Grazie